Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parleremo dell'impianto elettrico domestico, ossia dell'impianto elettrico che abbiamo nelle nostre abitazioni. Il contatore è il primo apparecchio che si incontra nell'impianto elettrico domestico. Viene installato dalla società erogatrice come per esempio l'Enel e consente di misurare in kilowattore l'energia elettrica che viene assorbita. Il contatore quindi è direttamente collegato alla rete di distribuzione elettrica da una parte, dall'altra parte con i fili, i cavi relativi all'impianto elettrico della nostra casa. Accanto al contatore abbiamo l'interruttore automatico differenziale, detto anche salvavita, allo scopo di interrompere il circuito in presenza di un assorbimento di potenza superiore a quella prevista dal contratto o in caso di cortocircuito. Questo è uno schema di come è costituito un interruttore automatico. Abbiamo il tasto per la prova dello scatto differenziale, i conduttori della rete, i conduttori verso l'impianto domestico e la leva per il ripristino dopo lo scatto. Vedremo nella lezione relativa alla sicurezza elettrica di fare un approfondimento su come funziona il salvavita. Successivamente abbiamo la rete dei cavi elettrici che è costituita da fili conduttori di rame rivestiti di materiale isolante. Esistono tre fili, una coppia che porta l'energia, vale a dire il filo marrone e il filo azzurro, e una coppia e un cavo invece che rappresenta la messa a terra e un filo di protezione. Anche in questo caso lo approfondiremo nella lezione successiva. L'impianto elettrico è nascosto perché viene realizzato sotto traccia. I conduttori sono inseriti dentro tubi protettivi di plastica che sono collocati nelle pareti. L'inserimento dei fili di rame può avvenire poi a costruzione ottimata. Questa è una fotografia di come avviene il cosiddetto scasso della muratura, entro la quale vengono collocati i tubi corrugati e all'interno di questi a costruzione finita vengono poi inseriti i cavi conduttori veri e propri. Poi abbiamo in ogni stanza le scatole di derivazione per far arrivare energia elettrica dalla linea principale agli apparecchi utilizzatori. Le scatole di derivazione possono essere in ogni stanza ma a volte sono collocate per esempio nel corridoio o in altri ambienti. Poi abbiamo le prese e poi abbiamo gli interruttori. Ma vediamo un po'. Le prese sono dei corpi plastica che sono incassati nella muratura. Perché è importante che questo incasso, questa diciamo custodia sia in plastica? Proprio perché la plastica appunto è materiale isolante. Sono collegate ai conduttori e in queste si inserisce all'interno delle prese la spina. Abbiamo diversi tipi di spine a seconda del tipo di contatto. Esistono anche degli adattatori che ci consentono di collocare tipi di spine diverse con prese diverse. Presa, lo dice la parola stessa, serve per prendere l'elettricità. Gli interruttori invece consentono di accendere o spegnere le luci. A volte comandano anche delle prese o degli elettrodomestici e sono composti da singoli elementi montati in una scatola. L'interruttore è comunque modulare, quindi possiamo avere come in questo caso interruttori a tre moduli ma anche a cinque, sei o anche ad un modulo solo. Andiamo a vedere quali sono gli utilizzatori. Tra i vari utilizzatori abbiamo gli apparecchi di illuminazione. Esistono moltissimi tipi di lampade che sono differenti per il principio di funzionamento, per la potenza elettrica assorbita, la luce emessa, forma e colore del vetro e anche per il sistema di attacco. Qui abbiamo una lampada di incandescenza, il neon, una lampada alogena e lampade di ultima generazione a LED. Qual è la differenza? Allora, innanzitutto vediamo che la scelta di una lampada dipende dal tipo di luminosità che vogliamo ottenere all'interno di un ambiente. Quindi andiamo da lampade che hanno 450 lumens fino a lampade con 1600 lumens. Ma cosa devo valutare nel momento in cui scelgo? Allora, innanzitutto si può valutare il consumo. Confrontiamo per esempio una lampada alogena con una lampada a LED. Una lampada alogena a parità di luminosità consuma 29 watt, mentre una lampada a LED ne consuma 5, quindi un consumo inferiore, sensibilmente inferiore. Il problema tra la lampada alogena e la lampada a LED è che attualmente sul mercato esistono lampade a LED molto più costose rispetto alla lampada alogena, ma questo costo eccessivo è giustificato dal fatto che la durata di una lampada a LED addirittura si attesta intorno ai 15-25 anni. Pertanto, facendo un confronto, una lampada alogena che dura invece 1-2 anni ha un costo di circa 12,8 euro annue, mentre una lampada a LED ci costa solamente 2,2 euro l'anno. Da questa tabella possiamo vedere quindi a parità di luminosità quali sono i consumi per ogni singola tipologia di lampade, quanto incide il costo rispetto ad un anno e qual è la durata delle singole lampadine. Altri utilizzatori sono gli apparecchi elettronici per l'intrattenimento, come il televisore, il playstation e così via, oppure gli apparecchi elettrodomestici, frigorifero, lavatrice, forno eccetera, che semplificano la vita, ma hanno anche dei consumi notevoli di energia. Un focus lo facciamo sullo smaltimento degli elettrodomestici. Quando un elettrodomestico non funziona più, che cosa si fa? Lo buttiamo nel cassonetto dell'immondizia normale? No, questo non può avvenire. Allora possiamo o portarli alle isole ecologiche comunali, oppure richiedere direttamente il ritiro a domicilio da parte del servizio cittadino, o alcune volte esistono delle campagne di acquisto che consentono di portare il vecchio elettrodomestico per poter acquistare quello nuovo. Ricordiamoci che sono dei rifiuti speciali e quindi non vanno inseriti nei normali rifiuti che facciamo ogni giorno. Un piccolo compito per casa. Descrivi il funzionamento di almeno uno dei seguenti elettrodomestici. Quindi sceglierete tra frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere, ferro da stiro, asciugacapelli, microonde e tostapane, e ne spiegherete attraverso gli schemi in una scheda sul quaderno come funzionano. Il mini-test, quali sono i componenti principali di un impianto elettrico domestico, a cosa serve il contatore, come funziona il salvavita e quali tipi di lampadine esistono in commercio. Al solito per casa si riguarda il video della lezione e si integrano gli appunti, si studiano gli appunti e il libro da pagina 379 a pagina 388 e si completa il mini-test iniziato in classe. Buono studio e buon lavoro a tutti!